Professore di scienza e religione presso l'Istituto di Scienze e Vede dell'Ateneo Pontificio a Reggina Costolo a Roma. Visiting professional all'Università di Toronto e faculty researcher presso il Merton College Università di Oxford. Ha diretto progetti internazionali come il Metamex Institute. Dunque, l'oggetto della sua relazione è appunto i Borboni e le potenze europee, 1799-1860. Se è possibile, per chiamare un'immagine del Mediterraneo proprio, buonasera intanto. Grazie agli organizzatori di questo evento che è così importante e sono onorato di partecipare per avermi invitato. Quindi grazie a Fernando Riccardi e a tutti i membri Giancarlo Dinaldi e a tutti i membri dell'Istituto di Ricerca Stolica delle Due Sicilie. Grazie anche a chi ci ospita, quindi la dirigenza scolastica, grazie a chi modera questo convegno, entro in media stessa. immediatamente, se viene richiamata una cartina del Mediterraneo, cominciamo a porre i grandi termini della questione. Intanto perché queste due date, 1799-1861. Per il 1861 un po' va da sé perché è l'anno del croco, del regno, quindi è l'anno in cui il legittimo sovrano, cioè Francesco II, a febbraio lascia Gaeta e quindi va in esilio. È l'anno di fondazione invece del regno d'Italia, quindi parliamo del 17 marzo. Per il 1799 invece, ricordiamoci che questo è un anno un po' speciale, siamo nel 2019, quindi sono 120 anni. 220? 220 anni, sì. 220 anni e quindi ecco, si è pensato di stabilire qualche forma di collegamento tra queste due date così importanti che hanno visto la rivoluzione napoletana affermarsi per qualche mese.